ha con sé la farmacista del quartiere. Che cosa da dirci? Esatto, Valeria Biazzi, dici un po' qual è la situazione. Al Giambellino i medici non arrivano, perché? Il problema è duplice. I medici non arrivano perché purtroppo la zona è quella che è. I medici sono dei liberi professionisti, quindi possono decidere dove andare. E qui, essendo una zona periferica, una zona popolata di persone con tante patologie e tante problematiche, ovviamente è un impegno gravoso da parte di un medico e quindi nel momento in cui sono liberi di scegliere, scegliono di andare da altre parti. Il problema è che in questa zona stanno andando in pensione molti medici, il dottor Veneroni era il quarto medico che è andato quest'anno in pensione, e quindi si sommano 1700 pazienti di ogni medico che attualmente o se l'hanno trovato, l'hanno trovato lontano oppure sono senza, come per esempio c'è il figlio della signora Maria che è cardiopatico, ha un sacco di problemi neurologici, quindi ha bisogno di medicine, è riuscito a prendere l'appuntamento con la regione Lombardia tramite la mail, ha fatto la domanda il 2 luglio, l'appuntamento ce l'ha il 18 agosto, dopo il 18 agosto passeranno altre due settimane, quindi questa persona rimane... Cioè fino a settembre senza medico? Almeno fino alla fine di agosto senza medico e come lui ce ne sono tantissimi altri nella stessa condizione e situazione, non è accettabile. Grazie Isabella.